Nessun calcolo e nessuna strategia che non sia quella di provare a vincerle tutte. Si avvicina alla conclusione della regular season del campionato di Serie D. Nel girone H il città di Brindisi continua la sua corsa verso i play-off e si appresta a disputare le ultime quattro partite con il P2 la grinta di chi scenderà in campo per quattro finali consecutive. Si comincia con la trasferta di Nocera in programma domenica, quindi Alfanuzzi arriverà il Casarano. Poi penultima giornata di nuovo in trasferta contro la Casertana. Gran finale in casa, Brindisi per il derby con il Grottaglie. Partite ostiche, soprattutto le ultime due, in una sorta di sfida parallela contro il Francavilla-Insigni che occupa attualmente il sesto posto in classifica, a sole tre lunghezze dai biancazzurri e quindi dall'ultimo posto valido per accedere ai play-off. In quest'ottica si inserisce il duplice obiettivo degli uomini di Mr. Maiuri cercare di migliorare la posizione in classifica senza perdere di vista il Francavilla e per riuscirci senza problemi occorre solo una cosa, vincerle tutte, ricetta semplice e sicura per un gran finale di stagione.